Abbiamo il piacere e l'onore di avere un ospite in diretta che apre questa nostra carrellata di dirette ed non poteva essere altrimenti che il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che ringrazio davvero perché in effetti farsi una levataccia a quest'ora dopo quello che è successo ieri non era del tutto facile. Questo dimostra ancora una volta la sensibilità e la disponibilità. Allora, il sindaco è davvero una post-festa del mare, direi consolante dopo due giorni veramente intensi, no? Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto. Un risveglio comunque in parte stanco ma sicuramente estremamente soddisfatto. Insomma, gli scontri sono stati estremamente diffusi, come dicevo, e importanti. Insomma, c'è stata una voglia di ripresa di questa città e devo dire che l'hanno apprezzato sia i cittadini anconetani e coloro che provengono da fuori Ancona, da tutte le Marche e turisti che ancora albergano nelle nostre strutture ricettive. Ecco, io direi che sono stato per qualcosa come 69 anni frequentatore di Ancona e quindi questa festa del mare che era la 39esima, probabilmente forse una partecipazione così intensa come in queste due giorni non c'è stata, dai tiro mancino agli incontri, a questa esibizione finale oltre al tradizionale parata di barche in mare. Ecco, questo rapporto con il mare, mi sembra che avete centrato il metodo e la finalità di questa festa. Sì, esattamente. Abbiamo il nuovo format, quello che è distribuito non solo in due giorni, ma che ha voluto un po' distinguersi dal passato e quello che ha voluto esti concentrato più sui contenuti, cioè sugli approfondimenti, i talk show, quelli che sono stati i show cooking, tutte le manifestazioni che hanno in qualche modo esaltato il rapporto fra l'essere anconetani e il territorio anconetano e il rapporto con il mare, esaltando soprattutto il ruolo che ha avuto storicamente la marineria dorica. Insomma, diciamo che oltre all'aspetto celebrativo, quello cosiddetto festaiolo, quello concertistico, quello diciamo più, come posso dire, di svago e di partecipazione, abbiamo voluto fortemente dare un elemento identitario a questa festa del mare. Ecco, sindaco, sono passati quattro mesi dall'insegnamento della nuova giunta, o comunque siamo dal periodo in cui voi avete cominciato a pensare al futuro di Ancona. Direi un bilancio interessante. Che cosa c'è nell'immediato futuro? Questi primi tre mesi e i primi tre mesi sono stati importanti per la ricognizione che abbiamo fatto dalla macchina comunale e di quelle che sono le situazioni del territorio, i dossier ancora aperti o quelli che insomma dovremmo sciogliere a brevissimo. La festa del mare è sicuramente l'inizio del nuovo corso, perché da noi programmata, da noi sotto la regia dell'assessore Angelo Di Antonio, che ha delegato anche sui grandi eventi, oltre che sulle attività economiche, da qui noi abbiamo una programmazione molto importante, perché avremo presto la Notte Bianca e poi ovviamente la festa di Natale e il Capodanno. Questo dal punto di vista dell'intrattenimento, delle grandi attività e dei grandi eventi che ci aspettano davanti. E poi tante materie, insomma, in termini di programmazione, in termini di sviluppo di questa città, i rapporti con il porto, quelle che sono insomma le note caratteristiche di una città di mare, che sta sul mare, che però insomma vuole esercitare il suo ruolo di comune e capoluogo. Ecco, per concludere, per lasciarla ai suoi impegni, una domanda un po' insolita, ma credo che sia un po' alla base del futuro, del suo lavoro e della città. Ecco, viene comunque dalla politica, ha fatto esperienze, eccetera, ma con questa veste è un esordio, le sta piacendo quello che sta facendo? Sì, non lo posso nascondere, sicuramente ci sono tanti stimoli nuovi, è un modo di fare politica diverso, sicuramente quella amministrativa, quella di governo, è una, devo essere onesto, è un'attività che pesa, che pesa nella sua quotidianità, nella sua intensità, che responsabilizza oltremodo, non è assolutamente uno scherzo, è un lavoro importante, costante, continuo, che pone di fronte a decisioni importanti e si fanno le cose più diverse nella stessa giornata. Io credo che però, di fronte a questo, insomma, la possibilità di avere una squadra così importante, mi aiuta non poco, e si utilizzerà perlomeno, insomma, i prossimi cinque anni della mia vita. Bene, allora, grazie Sindaco per questa sua bella partecipazione significativa all'edicola del Trap, alla ripresa, in bocca al lupo per il lavoro e buona giornata. Grazie a lei, direttore, il bel lupo. Bene, allora, grazie al Sindaco con questo collegamento in diretta che ha aperto la nuova serie delle dirette dell'edicola del Trap e allora andiamo con il programma della giornata che prevede un'intervista al Mental Coach di Jimbo Tamberi, molto interessante, perché dietro questi grandi risultati, dopo il grave incidente a corso a Tamberi, c'è tutto un percorso...